L'ammiraglio Romano Sauro ha realizzato il progetto Sauro 100, un viaggio in barca a vela per cento porti per cento anni di storia, il cui programma si inquadra nell'ambito delle commemorazioni organizzate a livello nazionale per ricordare sia il centenario della prima guerra mondiale, sia la ricorrenza dei cento anni dalla morte dell'eroe nazionale tenente di vascello Nazario Sauro. Quest'ultimo è stato un comandante marittimo, patriota e irredentista italiano. Fu catturato nel luglio del 1916 durante una missione e condannato da una corte imperiale per alto tradimento. Venne giustiziato a Pola il 10 agosto dello stesso anno e per questo motivo insegnato di medaglia d'oro al valore militare alla memoria. La libertà, la giustizia sono sempre messi in discussione nel mondo, purtroppo, e quindi noi dobbiamo cercare di crescere i nostri giovani su questi valori. Ecco il motivo per cui io giro l'Italia da un anno e finirò il mio viaggio fra un altro anno. Vado a raccontare proprio ai nostri giovani, agli studenti che hanno incontrato più di 20 mila, i valori di libertà, di giustizia e di solidarietà. Questi sono i valori fondamentali, universali, immensi, che valevano cento anni fa, valgono oggi e varranno anche in futuro. Giuseppe Pace della sezione della Lega Navale Italiana di Gela. I valori non hanno tempo, non hanno età e naturalmente se noi riusciamo a trasmetterli alle giovani generazioni sicuramente facciamo del bene a loro. Se invece noi lasciamo che tutto cada nell'oblio, certamente non abbiamo un futuro. Durante la manifestazione di oggi si è svolta anche l'inaugurazione di una grande ancora dismessa donata alla scuola dall'Eni. L'obiettivo di questa piccola iniziativa, ma anche significativa, è proprio che si incanala nel corso che da qualche anno abbiamo preso come a livello, oso dire, nazionale. Non solo suggera di intensificare i rapporti con la scuola e col mondo della cultura in genere. Quindi sicuramente si inserisce in questo filone, che è un filone che stiamo portando avanti con altri progetti. I due ragazzi dell'indirizzo nautico si imbarcheranno sulla Galiola 3, su questa imbarcazione, sbarcheranno il giorno 27 a Pozzallo. Terminerà il giro il prossimo anno, nell'ottobre del 2018, a Trieste. L'obiettivo è questo, risvegliare i grandi valori dell'unità nazionale, dell'unità europea e promuoverli all'interno delle istituzioni scolastiche, collaborando con le varie associazioni, in modo tale che risvegliamo il senso dell'identità sia nazionale che europea.